buona domenica a tutti da campanaro 67 ed eccoci al secondo giorno di questa memorabile due giorni campanaria in occasione del sesto raduno campanari centro italia organizzato dalla nostra associazione qui a fermo oggi siamo nelle marche a casa nostra praticamente e la giornata è splendida grazie al cielo oggi è santa maria goretti quindi in questa splendida piazza sul colle del grifarco qui a fermo di fronte a noi la splendida basilica di santa maria assunta con il suo poderoso campanile e le sue splendide cinque campane tra cui il campanone fuso nel 1611 da vittorio camplani di fermo e adesso vediamo qualche novità che riguarderà la giornata di oggi la novità la novità è che è arrivato un altro concerto di campane sono arrivati appunto i campanari bolognesi del padre stanislao mattei con il camion dell'associazione culturale campane della beata di san luca di bologna il famoso ormai concerto di cinque anzi pardon sei campane fuse dalla depoli nel 1994 sono arrivati anche oltre ai sorrentini i campanari eugubini i campanari di san sepolcro e dovrebbero arrivare anche altri campanari adesso francesco ovviamente oggi dios gli lascio tutte le visite su al campanile anche perché il suo slancio è talmente notevole che per carità non vorrei intaccare la sua la sua voglia di fare la sua gioia di vivere e quindi adesso aspettiamo le suonate dei campanari bolognesi che già ne hanno fatte due ma le faranno talmente tante che io sarò pronto a riprenderle il primo momento è tutto non sarebbe che dopo lui qua e tutto ci d'arte no ma per dire quanto è il mio corpo è qualcosa nonostante più alto campanile più alto campanile invece perché andrei tu così Grazie. 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 Grazie.